Musica Chismo da camera Autismo da camera, questo è quello. O credo forse che sia questo, forse quello. Diciamo che le pareti dei negozi sembrano grandi torri, confundenti. Ma io devo imparare che la prospettiva non esiste. Secondo me, non era stato confezionato bene questo Dic-Doc. Cioè, c'ha un sapore strano, cazzo. Ma perché finiamo sempre a mangiare sta merda per qualsiasi ore? Potevamo andare da panicchie, cazzo. Se ne avevamo i cinquanta, ne avevamo i cinquanta, ma... E non ci sono. Ma lei la parete di resistenzialismo e di non di Giovanni l'abbia dato? Eeeh... Non ancora. Fermo, avventuriero. Ti sei forse dimenticando di me? No! Il dizio che pensa che Tarantino sia l'unico cinema! Esatto! Oddio, una circuna nera! Ma secondo me le porte termiche dell'universo sono un po' commercializzati, dai, diciamolo. Diciamolo, cari. Non fanno produzioni decenti da anni ormai. Così? Così? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.